Il versatile obiettivo con zoom ottico 8x di Canon ti consente di avvicinarti ai soggetti distanti, mentre con l'obiettivo grandangolare da 28 mm puoi inserire ancora più soggetti nell'inquadratura. Persino i veri principianti possono acquisire senza difficoltà foto o video di qualità elevata da 16 megapixel con la funzione Smart Auto che rileva la scena di scatto e seleziona automaticamente le impostazioni ottimali tra 32 variabili, il modo più semplice per ottenere immagini impeccabili in qualsiasi condizione. Lo stabilizzatore ottico d'immagine con Intelligent IS compensa le vibrazioni della fotocamera per garantire che tutte le foto e i video vengano catturati perfettamente e riproducendo tutti i dettagli anche durante l'uso allo zoom massimo o durante l'utilizzo della funzione HD Movie in movimento. Zoom 8x facile e intelligente.